ma questi sono pazzi ma che si staccia nudo che è scusato io non riesco a capire ma questi sono pazzi sta nuda quasi sopra la chiesa è da espellere se si toglie quella da mezzo cioè questo è colmo proprio stanno facendo tutti gli uomini qua giù stanno facendo le foto guardate questi altri che stanno facendo le foto stanno facendo qua giù grazie